e ragazzi benvenuti nella quinta ed ultima parte di video relativi al covo della banda siamo gli ultimi tre questo è il tredicesimo sempre zona pauni vediamo cosa ci chiedono gente pensa di poter fare come vuole senza affrontare le conseguenze si sbaglia ok la distrazione abbastanza vicina prendo la macchina perché sono un nabbo del cazzo e a me piace fare le cose da nabbi quindi prendo la macchina magari tu sali no mi dice che ci sono solo tre uomini ma questa cosa mi puzza alquanto quindi io accendo la telecamera e vedo a perché ragazzi sono due macchine device rua a giro e il bersaglio è uno solo la cosa mi puzza che tu non sei nessuno puoi essere ucciso bersaglio sei tu sì c'è qualcun altro tu puoi esplodere per esempio così va bene gli altri possiamo tranquillamente andare a farci cazzi loro super francesismo e intanto così fammi ricaricare la concentrazione zio ok tu sei il bersaglio quindi più che altro vorrei vederci un pochino di più se possibile che poi piove pure preso in testa perfetto inter perfetto ok rimane solo il bersaglio che però lo devo prendere da un'altra angolazione non lo posso prendere da lì qui non c'è niente andiamo è però non me lo segnala that's the problem vabbè lui sta venendo di qua quindi tipo super goloso non c'era un cazzo ora guardo lì no sono un coglione sono un coglione sono un coglione secondo bersaglio in arrivo bel tentativo bravo non so dove sta questa bomba va bene esplosa ok io mi andrei nascondere adesso perché sti qua arrivano macchina e adesso mi torna tutto perché vuol dire che il bersaglio il secondo bersaglio è sulla è sulla macchina adesso mi torna raga va bene noi stiamo qua se mettiamo qui e aspettiamo quando qualcuno sicuramente entrerà qui pacifico tu tu no tu hai la telecamera ma non sei il bersaglio quali laggiù come ci arrivo così puoi chiamare rinforzi puoi chiamare rinforzi non c'è nessun bersaglio ok buono blackout con patatine perfetto inter perfetto a posto preso in testa non sei il bersaglio quindi ok è tornata la luce ecco queste cose sarebbe tipo consono farle di giorno sapete più che altro io ne vedo solo uno quello è il problema mica l'altro cioè nel senso non riesco a vedere dove siano gli altri perché se apro la mappa cioè non mi dai nemici a differenza di altri giochi che te li danno ok il bersaglio è lui solo che si sono tutti rientanati qui tranne uno che però è qui perché lo vedo dalla minimappa ok due colpi però ha funzionato ne è rimasto uno solo da ammazzare più il bersaglio li potessi ammazzare tutti e due invece no vanno atterrati anzi va atterrato il bersaglio mi piacerebbe che uno magari soprattutto quell'altro si avvicinasse un pochino di più così posso colpire indisturbato il vero problema è che non decido io tra l'altro qua c'è una bella esplosione da poter usufruire però ok ok mi stai facendo un ottimo regalo perché se viene qui è morto preso ok rimani solo tu sei solo contro il mondo e infatti e infatti boom boom e ciao dalle fottute pareti terzo ultimo covo della banda ragazzi se ne va così covi della banda 13 su 15 quattordicesimo covo della banda ragazzi il penultimo siamo ormai a 90% in realtà 90% no però insomma siamo abbastanza in là assolutamente le emissioni secondarie più difficili in assoluto sono proprio queste piove a pony e tra l'altro questa mi è tipo spuntata fuori adesso ma prevedo un bel dito in culo sapete ma proprio bello bello tosto intanto c'è qualcuno qua al cancello di ingresso e io tipo potrei fare questo esattamente così che nessuno mi vieta di farlo ok tu sei il bersaglio per caso no quindi puoi fare questo e morire così ha recentemente visitato Belfast buon per lui allora c'è un cecchino lassù potrei prenderlo dalle spalle non male come idea intanto non sei il bersaglio per me che non vedo un cazzo ok cecchino fuori certo che mettendomi qua sopra c'ho la visuale un pochino più chiara delle cose volendo tu non sei il bersaglio quindi puoi morire il problema è che non ci sono telecamere qua ecco dove sta la cosa molto difficile di questa missione qui cazzo ha una malattia venerea eh vaffanculo ti muovi troppo oh adesso non devi neanche più spendere soldi per le cure ma fanno a vedermi cazzo che è arrivato il momento di scendere in terra tu chi sei un coglione i coglioni a casa mia ops i coglioni a casa mia sono io merda tu sei il bersaglio vero eh si preso preso ma aveva visto ma aveva visto raga ma aveva visto non mi avete mai anzi forse si adesso sono veramente sotto torchio qua assolutamente sotto torchio ok ok se si avvicinasse forse forse eh ma si avvicina in coppia si stanno separando buono 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 vieni qui vieni qui vieni qui macchina macchina subito macchina prima di adesso macchina e via prima che inizino a sparare prima che inizino a sparare ok piove col sole sputato il sole quando l'ho ucciso sarà un caso non credo proprio c'è un problema che io di qua non vado da punte parti sparpagliatevi chiamata ricevuta eccoci quindi io devo prendere quel ponte lì per forza sarebbe carino lo potessi prendere prima di loro si 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 no no è chiuso no c'è la rampa 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 c'è la mega rampa è quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto il covo della banda prima missione completata ragazzi 14 su 15 completati e sono 15 ragazzi ultimo covo della banda in assoluto lo andiamo a fare in 100 dopo tipo 5 covi della banda pony e questo ragazzi è veramente veramente l'ultimo se ci sono degli scontri all'interno del club devo approfittarne per creare confusione se elimino un membro gli altri si incolperanno a vicenda e scateneranno una lotta intestina not bad not bad per ora perché ultimamente è andata diversamente allora tu puoi esplodere il che schifo non mi fa il problema è di essere così in centro città è che se ti vedono armato poi cominciano a rompere i coglioni l'ho preso si l'ho preso l'ho preso l'ho preso tu puoi chiamare i rinforzi devi essere ucciso subito esplodi tu puoi chiamare i rinforzi tu pure esplodi chi m'ha visto cattura che vuol di cattura che vuol di cattura ha preso la macchina ok va bene scansionatemi pure tanto che poi vi faccio fuori tutti e due perché non l'ha neutralizzato vieni qui oh brutto ceffo 15 su 15 la polizia manco ci cerca più covo della banda completato ragazzi ma è una cazzata questa è stata una cazzata assurda io quanti punti di abilità ho 53 che non posso spendere perché mi sono un attimo fermato con la storia principale fighissimo 53 punti di abilità ottenuti solo con le missioni secondarie parliamone ragazzi covid della banda portati tutti a termine grazie a tutti grazie a tutti